Eccoci qui con Serena Salino, pittrice, ceramista, un'artista eclettica e soprattutto molto produttiva. Che cosa puoi dire ai lettori di Liguria Today? Allora, intanto buonasera a tutti, sono felice di far parte di questo gran team famiglia di Liguria Today, ringrazio Rosela Schesaro per l'intervista. Sono qui con una mia ultima opera che è della serie Changed, ma non dico altro perché scoprirete poi tutte le novità. Vi saluto e un ringraziamento ancora a tutti quanti, piacere ancora di essere parte, di farne parte.